ragazzi vediamo come si sviluppa le posizioni un po' di bagarra Fiocco di Neve ha accettato la partenza e scende in corda ma quelli all'esterno sono decisamente più svelti tra questi anche Stella Guerriera che ha la giubba viola poi aptitude to storm che galoppa all'interno ed è il leggero vantaggio sempre su Stella Guerriera terza corsia ora per Rebeilla che ha superato Carcadè Fiocco di Neve che rimane in corda a largo razziatrice che segue le mosse iniziali di Totavalesca e così si va davanti alle tribune schema abbastanza sostanziale davanti alle tribune non è cambiato niente o quasi con aptitude to storm in vantaggio su Stella Guerriera che ha all'esterno Rebeilla Fiocco di Neve si è sistemata terza in corda ora quarta Rebeilla richiesta quinto è Carcadè che precede la mossa di razziatrice in corda wave of life poi tenta with a tenista all'arco di tutti è anticipata dalla stessa razziatrice è il momento in cui c'è i due davanti che allungano aptitude to storm pressata sempre da Stella si avvicina wave of life poi che cerca il barco e se lo trova può essere della partita al pari di with a tenista tutti piuttosto stanchi poi cerca il recupero Val di Viz siamo in dirittura ora aptitude to storm attaccato da Stella all'interno c'è lo spazio per wave of life Carcadè Val di Viz lottano poi la ziatrice lottano questi fin sul palo aptitude to storm e wave of life wave of life che vince i colori di Roberto alman wave of life Filippo Marras in 10 che batte il 4 di aptitude to storm si chiude col botto 10 aptitude to storm 4 vediamo per la terza che c'era anche Val di Viz all'interno ed è Val di Viz che forse precede Stella guerriera 10-4-9 sarebbe stato veramente il massimo 2 2